Lo scorso fine settimana gli oltre 300 banchini del PD in Toscana per spiegare cosa di buono ha fatto il governo e per invitare anche al tesseramento, il prossimo fine settimana la Leopolda, senza bandiere di partito, comunque governativa. Antonio Mazzeo, com'è andata e come andrà? E' andata molto bene, noi siamo contenti, oltre ogni nostra aspettativa, più di 1500 nuovi iscritti al PD, tantissima gente che si è avvicinata, io penso alla signora Anna Livorno che mi ha detto con grande forza avanti, andate avanti. Noi qualche anno fa abbiamo deciso di togliervi la possibilità di governare per darla ad altri e in realtà ci stiamo rendendo conto che queste città, questi paesi hanno bisogno del Partito Democratico. La Leopolda invece va oltre, la Leopolda è il luogo in cui noi abbiamo provato a costruire il futuro qualche anno fa, la nostra generazione, la generazione Leopolda ha pensato a costruire un'Italia diversa. Adesso stiamo governando noi, stiamo facendo tante cose importanti, è giusto usare questi momenti per confrontarci, per ascoltare, per migliorare anche le leggi che abbiamo messo in cantiere. E' un momento bello di incontro, di confronto in cui disegnare il percorso dei prossimi anni, ascoltando anche tutto ciò che va oltre il Partito Democratico. Perché un partito che vuole governare deve da un lato avere la capacità di fare proposte, dall'altro avere però la capacità di intercettare anche tutto ciò che ruota intorno al partito stesso. E questo sarà la tre giorni della Leopolda, un momento di incontro, di confronto, un momento di ascolto, un momento in cui costruire insieme l'Italia del futuro.